Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio primo canale YouTube dico primo perché per chi non lo sapesse ho anche un secondo canale YouTube chiamato Daniele Brogna No Limits dove parlo in generale del calcio a 360 gradi e proprio in questo istante è uscito un video dove analizzo la partita Real Madrid-PSG facendo un po' le mie considerazioni tra andate al ritorno, parlo di alcuni giocatori insomma se vi va andate a vederlo iscrivetevi sia lì che qui controllate di essere iscritti perché tanti pensano di essere iscritti e invece YouTube che magari consigli i miei video perché li avete già visti in precedenza però dovete essere iscritti per essere sicuri di non perdervi nessun contenuto allora per chi non avesse visto il video di ieri sera su Donnarumma innanzitutto vi invito ad andare a guardarlo per chi invece l'aveste già visto sono qui a mettere la mano avanti a specificare, a spiegare un po' perché di quel video ho letto tanti commenti di milanisti fomentati sì è giusto così nel culo a Donnarumma, la baguette nel culo c'è tutta una serie di insulti che secondo me ci stanno finché sono insulti, sfotto eccetera ci stanno, è ovvio che poi le altre robe, quelle, le minacce puttanate varie quelle non mi appartengono e non mi apparterranno mai e poi mai sapete che anche in passato ho preso distanze anche da determinati striscioni che ho visto contro Donnarumma innanzitutto ragazzi voglio specificare che a me non me ne frega nulla di Donnarumma so che non sono credibile si non te ne frega intanto ieri hai fatto il video non me ne frega nulla nel senso che non è che io ogni domenica sono lì a guardare il PSG sperando che Donnarumma faccia qualche cappellata assolutamente no io guardo il mio milan seguo il calcio soprattutto la serie A poi se Donnarumma fa una cappellata sinceramente mi fa piacere se Donnarumma ne piglia 5 sinceramente mi fa piacere però non venite a fare i paladini della giustizia voi altri che ti fate altre squadre perché ogni squadra ragazzi ogni tifoso di altre squadre ha il dente avvelenato verso qualcuno io vedo tanti interisti che godono della situazione di Lukaku che non sta riuscendo a esplodere o peggio ancora che sta facendo malissimo col Chelsea che è praticamente fuori dal progetto ormai da mesi vedo tanti altri tifosi della Fiorentina che magari possono godere se Vlaovic una volta sbaglia un rigore o fa una prestazione pessima il bello del calcio è questo ragazzi alcuni giocatori ci si affeziona ad altri giocatori si disaffeziona è così è stato da sempre così e sempre sarà così vi ripeto ma non voglio parlare in generale ancora della situazione di Donnarumma perché penso di essere stato abbastanza chiaro per quanto riguarda me poi ovviamente voi dovete giudicare me per quello che dico e che faccio io non è che se un altro tifoso del Milan un vostro compagno di classe che tifa Milan un altro youtuber dice determinate cose poi io pago le conseguenze di quello che dice un altro io rispondo di ciò che dico il mio pensiero su Donnarumma lo sapete benissimo il problema non è che è andato via ma il problema è per come è andato via semplicemente questo ragazzi io sono rancoroso nei confronti di Donnarumma semplicemente per questo null'altro in passato tanti campioni sono andati via dal Milan penso a Kakà penso a Shevchenko eppure non ho mai augurato non ho mai goduto di eventuali disfatti anche Shevchenko fece malissimo col Chelsea e ricordo che in quel periodo stavo male perché ero talmente legato a Shevchenko che ci stavo male e se Donnarumma fosse andato via in maniera diversa avrei fatto il tifo per lui anche al PSG e sarei stato rammaricato nel vedere la papera che ha fatto ieri e invece per come sono andate le cose se posso togliermi qualche sfizio qualche sassonino dalla scarpa nel vedere un mio ex pupillo fare male e sinceramente ci godo tanti altri poi un altro commento ricorrente poi se vi porta ai mondiali non esultate ma perché non devo esultare se lui mi pare un rigore decisivo o fa un intervento incredibile e porta la mia nazionale italiana ai mondiali ma io godo come un porco io godo come un porco ragazzi io per me davanti a tutto c'è la maglia c'è la maglia c'è la squadra c'è la fede davanti a qualsiasi giocatore può essere il più scarso del mondo il più forte del mondo a me non me ne frega nulla io voglio vincere voglio che la squadra che io tifo da club il Milan la nazionale l'Italia io voglio che vinca sempre a prescindere dagli interpreti è questo che tanti di voi non capiscono a me Matrazzi ad esempio non è mai stato particolarmente vabbè adesso mi è abbastanza indifferente però quando era nell'Inter era uno di quei giocatori che non sopportavo tanto nell'Inter c'era Matrazzi ricordo nella Juve c'era Montero che anche mi stavo un po' sulle palle ma quando Matrazzi ha contribuito fortemente alla vittoria dell'Italia ai mondiali ma io ho goduto come un cane lo avrei limonato quella sera se fosse stato possibile così come limonerei Donnarumma se mi facesse andare ai mondiali sono due cose completamente diverse e poi vi ripeto vi ripeto non fate i saccenti non fate i professorini sotto questo punto di vista perché la ruota gira a sto giro l'ho presa io nel culo milanista che ho perso Donnarumma che per me rimane un portiere fortissimo forse non da 12 milioni di ingaggio ma per me rimane un portiere forte e non giudico il portiere da una papera per me rimane forte e a sto giro l'ho presa io nel culo io ma magari la prossima volta la prendete nel culo voi magari la prossima volta un vostro pupillo decide di andare via a parametro zero con tutto il casino che ne conviene e vi ripeto il problema non è chi è andato via ma come è andato via voglio vedere se poi quando sarete voi i primi ad essere coinvolti riuscirete ad essere così lucidi nel non goder nell'essere sportivi voglio proprio vedervi ragazzi perché è facile fare gli splendidi col culo degli altri diciamo così per non essere più volgari detto questo voglio parlare anche dell'episodio in sé allora per me ragazzi quella è una papera per me quella è una papera sacrosanta perché lì Donnarumma poteva subito spazzare via la palla poteva farlo subito poteva o darla di prima o comunque non temporeggiare così tanto invece ha voluto fare lo splendido con Benzema che puntualmente l'ha castigato detto questo Dani Maliccia Raffallo Benzema non tocca la palla allora se avesse fischiato il fallo non avrei detto nulla avrei storto un po' il naso ma non avrei detto nulla perché ci sta ma ragazzi dovete sapere che la carica sul portiere esiste soprattutto per le prese alte quando il portiere va con le manone per prendere la palla e magari un giocatore lo tocca e lo sbilancia in quel caso in 90% dei casi è fallo e va benissimo ma quando un giocatore si prende quando un portiere si prende il lusso di avere la palla tra i piedi e prova a fare il fenomeno e prova a tenere più palla di quel che chiedeve non è che lì il portiere non si può toccare vi ricordo che il calcio è uno sport di contatto quindi in quel caso il portiere non è un portiere è un giocatore di movimento come tutti come tutti e per me quella di quella di Benzema nei confronti di Donnarumma è stata un'ostruzione è stato lì è andato a rompergli le palle di certo non gli entra valanga non è che lo stende anche perché Donnarumma è anche alto e grosso semplicemente si è complicato da solo la vita Donnarumma quindi per me è quello se avesse fischiato il fallo gli avrebbe detto bah Donnarumma è andata bene perché lì non lo so non sono convinto non sarebbe stato uno scandalo se l'avesse fischiato ma per me non è neanche uno scandalo che invece lo ha fischiato che invece non lo ha fischiato tant'è che sui giornali francesi non parlano di scandalo di arbitro eccetera danno la colpa a Donnarumma perché lì Donnarumma si è complicato da solo la vita poi le ripercussioni non è solo colpe di Donnarumma sia chiaro però come ho detto sul video che ho caricato sul secondo canale Daniele Brogna no limits è ovvio che è stato lui che in negativo ha come dire ha fatto scattare la scintilla al Real Madrid e da allora non si è capito più nulla è ovvio che poi ragazzi il 2 a 1 e il 3 a 1 Donnarumma di per sé non c'entra nulla lì la colpa è di tutta la squadra che ha praticamente smesso di giocare però quella scintilla lì l'ha fatta scattare Donnarumma anche perché per chi ha visto la partita sa benissimo che sino a quel momento il PSG era in completo controllo della partita detto questo ragazzi vi saluto non volevo fare un video così lungo vi rimando al secondo canale Daniele Brogna no limits per vedere il secondo per vedere il vlog su questa partita per adesso è tutto e alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.